Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere quello che ho comprato i primi giorni di settembre per quanto riguarda la bigiotteria Allora, come bigiotteria sono andata solamente alla H&M di Milano, sono entrata al negozio di Corso Vittorio Emanuele In pratica per arrivare al negozio prendete la metro rossa direzione Sesto Marelli e scendete a San Babila che è una fermata più avanti della fermata Duomo Poi tornate indietro da Piazza San Babila, poi fate 100 metri e c'è il negozio, quindi più vicino di così non si può E al negozio dell'H&M ho preso questi, vedete le sfumature, la marca è la Divided Che è sempre un marchio a poco prezzo, è uno di quei marchi dell'H&M che è uno di quei marchi che l'H&M tiene da un bel po' di tempo Infatti io della Divided ho anche una serie di orecchini colorati, ho veramente un sacco di roba E mi è costato 4,99 Non so se riesco a farvi vedere tutte le sfumature Sono verdi con tutte le sfumature, mi sono piaciuto un sacco Poi ho preso questi Sono molto belli, tutti in grigio Sono costati 7,99 In pandan con questi orecchini c'è anche la collana Io non ho voluta prendere perché mi sembrava troppo pesante Poi era una cosa tanto così, una striscia diciamo tanto così Quindi le cose troppo pesanti poi alla fine mi danno fastidio Questi orecchini sono pure loro un po' pesantucci però diciamo non tanto come la collana A me mi sono piaciuti subito Anche se 7,99 diciamo che già è un prezzo un po' più altino Però va bene, diciamo che si può fare Poi A 9,99 Ho preso La collanina Color verde acqua Mi piace veramente un casino con i fiorellini eccetera Mi piace tanto E come vedete diciamo All'HM non ho preso Non ho preso tanta roba Ho preso proprio le cosine che mi piacevano Anche perché Io sto registrando diciamo questo video Io però contate che Il 31 era lunedì Il 31 agosto era lunedì Io sono andata sabato Quindi io sono andata a prendere questa roba Il 28 agosto Il 28 agosto Sì il 28 agosto No ho sbagliato Il 29 Perché allora il 27 era giovedì Il 28 era venerdì Il 29 era sabato Perché io sono andata di sabato Quindi il 29 agosto Io ho preso la roba che avete visto all'HM E la ragazza mi ha detto che non c'era tanta roba Perché doveva ancora arrivare la collezione nuova Quindi diciamo ci sarà roba nuova Per quanto riguarda sia la bigiotteria Ma soprattutto per il trucco Ho visto su un giornale che ci saranno Che ci saranno vari ombretti singoli In cialdina singola a 4,99 euro E come ho visto diciamo sulla foto del giornale Sembrano anche bei colori 4,99 diciamo Non è male per un ombretto singolo Sempre ovviamente questo per quanto riguarda la HM E la ragazza mi diceva che questo mercoledì Che diciamo il mercoledì della settimana dopo Quindi in questo caso doveva essere il 3 Il 3 era giovedì Doveva essere il 2 E quindi dal 2 settembre sarebbe arrivato il riassortimento Quindi diciamo da quando io caricherò il video Già l'assortimento ci dovrebbe essere Quindi vi dico andate a fare un giro all'HM Magari trovate qualche cosa di bigiotteria che vi interessa E anche il make up che vi interessa Quindi vi dico andate Guardate poi se vi piace qualcosina Ok se no Pacevamo Intanto ci sono altri negozi Vi saluto Ciao a tutti